Tra pochissimo, dopo la sigla, parleremo della situazione degli infermieri in Sicilia. Ben ritrovati, come sapete noi cerchiamo sempre nel corso delle nostre trasmissioni, oltre a parlare ovviamente di eccellenze, di sanità, insomma anche di patologie, di soluzioni da offrire ai nostri telespettatori, anche delle problematiche che in qualche maniera attanagliano la sanità nazionale e in particolar modo quella siciliana. Oggi sotto i nostri riflettori il ruolo degli infermieri, le problematiche, tutto ciò in qualche maniera li vede coinvolti a livello regionale. Ospiti con me Salvatore Vaccaro, Vice-Segretario Nazionale Nursin. Grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti i telespettatori. E poi abbiamo Salvatore Calamia, che invece è il segretario regionale. Grazie anche a lei di essere qui con noi. E poi per ordine abbiamo Aurelio Guerriero, Nursin Palermo, Giuseppe Provinsano, Nursin Caltanissetta. Quindi cerchiamo così in questa trasmissione di coprire le principali, ovviamente, province, le problematiche. Io vorrei partire con un dato recentissimo, quindi approfitto anche della vostra presenza, della presenza del segretario regionale. Da pochissimo si è tenuta una riunione in assessorato per fare il punto delle vostre problematiche e anche di chiedere maggiore tutela e indennità per la vostra presenza all'interno dei pronto soccorsi. Vorrei ovviamente avere delucidazione su quella che è stata la riunione che avete tenuto appunto in assessorato a Palermo. Abbiamo avuto forse... si è bloccato in questo momento sicuramente perché era in movimento, quindi appena si riesce a ricollegare sentiremo Salvatore Calabia. Salvatore Vaccaro, quali sono le problematiche che avete portato in assessorato? Allora, le riunioni che sono avute in questi giorni in assessorato sono state legate a due problematiche principali che abbiamo già... sono stato oggetto da parte nostra della dichiarazione di una stata di recitazione e devo dire che dopo qualche giorno l'assessorato si è messo subito in moto e ci ha convocato da una parte per l'indemità di pronto soccorso che è che aveva stanziato il contratto collettivo nazionale ben due anni fa e dall'altra invece per l'aumento della tariffa del personale che lavora nel sistema di emergenza-urgenza 118. Entrambe le problematiche sono state affrontate in questi giorni e sicuramente Salvatore Calabia appena riuscirà a collegarsi ci potrà dare notizie più precise, però possiamo dire da un certo punto di vista che possiamo essere, diciamo, possiamo apprezzare... Siete contenti o no? Siamo mediamente soddisfatti del fatto che l'assessorato finalmente si è mosso dopo tanto tempo e siamo stati costretti a dirgliare la stata di agitazione proprio perché erano tanti anni che chiedevamo l'aumento delle tariffe del personale che lavora nell'emergenza-urgenza e il pagamento dell'indennità del conto soccorso che già erano solo distanziati dalla contrattazione collettiva nazionale ma che in realtà in Sicilia rispetto alle altre regioni d'Italia non erano state erogate o erano state erogate in quantità irrisorie rispetto alla contrattazione collettiva. Faccio l'esempio. L'indennità che doveva essere 5 euro al giorno, 4 euro al giorno a secondo del tipo di ospedale, era stata stanziata a conto di 1,50 euro al giorno, quindi poco più di un caffè, diciamo. Abbiamo chiesto che queste risorse che erano già previste venissero stanziate tutto qua. Io vedo che Calamia si collega e non si collega perché è in movimento in autostrada, quindi mi rendo conto che non è sempre facile il collegamento, auspichiamo in qualche maniera che riesca a trovare un'area di esosto, un posto in cui... Ecco, mi senti? Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Abbiamo... Siamo in movimento ma siamo qua. Allora, ci dica... Ci porti le novità ovviamente. Allora, come... Non so il collegamento precedente però vero o male abbiamo già... Ho capito vero o male che ha preso diversi punti il segretario Salvo Vaccaro. Praticamente ci sono state diverse riunioni per quanto riguarda, diciamo, diverse proposte e da parte dell'assassorato con l'organizzazione sindacale, tra cui la nostra. Per quanto riguarda... Mi sentite? Sì, 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 vada, vada tranquillo. Ok. Per quanto riguarda principalmente il fattore dell'identità di pronto soccorso, dopo numerose interlocuzioni la soluzione si è trovata, anche se è sempre temporanea, con le risorse che sono state stanziate, si è cercato di trovare una quadra, ma ancora è in fase di lavorazione. Per quanto riguarda le ultime riunioni riguardanti il 118, a cui noi abbiamo partecipato, c'è anche una proposta assessoriale che parla di un aumento non molto considerevole, dobbiamo dire, perché le risorse anche lì sono abbastanza scarse, sia per il personale dirigente che è il personale di comparto, quindi infermeristico. Parliamo sull'ordine delle 60 euro come proposta per quanto riguarda la parte dei medici anestesisti e per quanto riguarda il personale infermeristico dei suoi 30 euro. La nostra proposta è stata di aumentare questa cifra perché il servizio del SEOS del 118 è un servizio fondamentale, non è una questione economica, è una questione di produrre qualità dove, essendo che le persone che sono preposte perché danno la disponibilità, fanno un lavoro importantissimo che causa non solo stress ma anche, voglio dire, va al di là del fatto stesso che la qualità della vita umana, la qualità delle persone che vivono in Sicilia viene garantita dall'assistenza, alla salute attraverso gli operatori, eccetera, in primo modo gli infermieri, anche gli autisti soccoritori e anche il medico, però sinceramente una quota parte perché ci sono da precisare, parliamo dei numeri, al circa 108 ambulanze, diciamo, sparpagliate in tutta la Sicilia con personale infermeristico medicalizzato e quindi è una situazione abbastanza capillare e diffusa, non abbiamo fatto una questione economica ma ne abbiamo fatto una questione di qualità, ok? Detto questo, abbiamo altre proposte in cantiere, il principale problema che noi vogliamo porre all'attenzione del governo regionale è maggiore attenzione per quanto riguarda la qualità dell'assistenza, non solo intra ospedaliere, ripetiamo sempre, lo ripeterò sempre, in qualità non come segretario regionale ma come segretario nursing che rappresenta più di 5.000 infermieri in tutta la Sicilia ma dobbiamo migliorare il rapporto che c'è, la qualità assistenziale ospedaliera con quella territoriale. Se noi o non lavoriamo su questo, abbiamo già diverse piattaforme che abbiamo presentato, ma se non lavoriamo su questo non raggiungeremo mai l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza in Sicilia perché evidentemente ci vuole un collegamento che indichi la strada da percorrere e la qualità che vogliamo che sia prodotta. Se non facciamo questo tipo di ragionamento e su quello noi abbiamo, ripeto, già affrontato questi temi, presentato piattaforme e aspettiamo delle risposte, è lì che si gioca la sfida fruttura della nostra sanità siciliana, è lì che vogliamo intervenire. Le risorse, anche se ci dicono che non ci sono, devono essere trovate perché secondo me una razionalizzazione delle spese per quanto riguarda miglioramento della qualità assistenziale si può trovare e secondo me ci sono le condizioni per farlo. È da lì che dobbiamo partire e da quella è la strada da percorrere. Quindi migliorare ovviamente la qualità del vostro lavoro giustamente vi dà la possibilità di lavorare meglio poi, no? Attenzione, sì, perché noi abbiamo, quando diciamo che produciamo delle piattaforme, noi produciamo delle piattaforme dal punto di vista quali quantitativo perché ragioniamo su un sistema che riguarda sì il fattore assistenza e il rapporto paziente-infermiere, ma anche su un sistema che è globale, che riguarda tutta la dinamica dell'assistenza, tutta la dinamica della rete ospedaliera. Se non si fa questo ragionamento dove praticamente si deve applicare quello che è il sistema di collegamento tra le varie funzioni, tra i vari profili, dei vari reparti, tra i vari presidi, informatizzazione, formazione, non smetterò mai di dirla, e sburocratizzazione delle procedure, è chiaro che noi abbiamo un sistema pubblico che è attualmente mitragliato dal sistema privato, ripetiamolo sempre, che è importante dirlo, che la maggior parte di noi, anche ora il personale infermissimo che vuole migrare anche nel settore privato, come la parte della dirigenza medica. Se non prendiamo delle precauzioni, questo sistema andrà sempre più, voglio dire, in difficoltà. Ed è questa la sfida che il NURS in Sicilia vuole proporre agli organi regionali. E su questo stiamo creando le condizioni, anche con diverse interlocuzioni a livello regionale, con il direttore Tiacolino, con l'assessore, perché è quello che è la strada da percorrere. Che poi ci possono essere delle varie soluzioni, che la capacità che riguarda anche economica della Sicilia non è una situazione siciliana, lo sappiamo tutti che è una fase di piano di rientro, perché siamo stati in deficit. Però si può ragionare su questo e si deve ragionare su questo, perché le risorse, a nostro parere e anche a parere degli esperti che abbiamo condattato, ci sono. E da lì, come ripetevo poco fa, la sfida da vincere. Bene, allora noi innanzitutto ringraziamo, nonostante sia il Movimento Salvatore Calamia, speriamo di poterlo continuare ad avere per tutto il resto della trasmissione, altri 10 minuti, altri 15 minuti. Vorrei fare un giro veloce ovviamente anche degli altri referenti per avere un quadro completo della situazione, o perlomeno io ce l'ho, sono i telespettatori che hanno bisogno di avere un quadro completo, perché spesso si critica senza avere dati e conoscenza reale di quelle che sono le problematiche che gli infermieri hanno quotidianamente. Allora, partendo dal Nursi di Palermo, a Uriero Guerriero, com'è la situazione degli infermieri nel capoluogo siciliano? Penso che la situazione è condivisa un po' in tutte le province. Purtroppo ormai, da quando gli ospedali appunto sono diventati aziende, più che altro si tende a quelli che sono i bilanci e non si guarda mai più a quello che è la qualità che effettivamente si deve portare quando si sta al fianco di una persona malata. Una persona malata è una persona che ha bisogno di tutto. In questo momento ancora noi abbiamo il riflesso del Covid, dove appunto non viene garantita spesse volte la presenza anche del familiare per quanto sono le visite limitate. Molte volte ci ritroviamo nei pronto soccorso, dove appunto il paziente rimane lì senza che nessuno materialmente può dare delle notizie e sono queste che molte volte vanno ad aggravare quelle che sono le situazioni di attesa e molte volte sono le micce che poi scatenano la violenza che spesse volte si perpetua nei pronto soccorso. Siamo in difficoltà perché spesse volte siamo costretti a saltare i riposi, a fare i doppi turni perché andando con i coefficienti che hanno stabilito in regione e limitandosi con i tetti di spesa appunto all'assunzione del personale si ci ritrova proprio in una situazione di forte stress. Molti colleghi appunto con il discorso stesso dello 118. Il 118 viene fatto in incentivazione, quindi gente che già si è fatto i suoi bui turni nei reparti di 150-160 ore va a prestare la propria opera anche sulla strada per garantire quello che è la normale sicurezza che devono avere la gente che ha bisogno appunto di essere assistita. Diciamo che noi oggi quello che chiediamo è mettere di nuovo al primo posto veramente la persona. Il servizio sanitario nazionale sta andando per conto mi riguardo un po' alla rovina tentando appunto di privilegiare quello che è il privato. Il discorso non deve essere per una guerra fra privato e pubblico. Il fatto è di garantire, di poter far svolgere a ognuno di noi, non parlo soltanto per gli infermieri ma anche tutte le altre figure che ruotano intorno appunto alla sanità. Il giusto lavoro è lavorare in sicurezza e avere anche il tempo di dedicarsi ai propri spazi. Il tempo ce lo stanno rubando. In molte aziende del palermitano ci troviamo con colleghi che hanno più di 100 giorni di ferie. 100 giorni di ferie arretrate. Noi pensando che un dipendente ne ha da 32 l'anno significa che ha tre anni di ferie arretrate. Significa che ha accumulato tanto di quel lavoro e tanto di quello stress che veramente sta diventando una cosa ormai inaccettabile. Ma quello che ci preoccupa di più è appunto la stasi della politica. Noi è da giugno che dovevano fare i nuovi direttori generali, sono stati prorogati a ottobre, da ottobre sono stati prorogati a gennaio e non si sa ancora se tutto ciò avrà un fine a gennaio solo perché la politica non si mette d'accordo. Sappiamo bene che i commissari straordinari poi possono fare soltanto il lavoro ordinario, non possono fare cose programmatiche appunto perché non gli è permesso. Quindi noi abbiamo bisogno della politica ma soprattutto i cittadini hanno bisogno della politica e noi che lavoriamo in ospedale abbiamo bisogno di lavorare in condizioni migliori, accettabili, con riposi e con meno stress perché già stare accanto a una persona che sta male a noi dà molto stress. Se tu vuoi lavorare bene, vuoi dare salute, vuoi garantire salute, devi essere messo nelle migliori condizioni. Oggi tutto questo non c'è. Purtroppo è così, vorrei anche sentire Giuseppe Provinzano, Nurdic Altanissetta, anche là c'è un altro polo ovviamente ospedaliero rilevante, ci sono tante realtà e immagino altrettante difficoltà. Sì, le difficoltà sono legate al vasto territorio perché se pensiamo che la provincia di Altanissetta è molto lunga, vada a Niscemi per arrivare a Mussomeni che sono circa 120-130 km di distanza tra questi paesi. Ricalcando un po' quello che hanno fatto i miei colleghi precedentemente, le difficoltà sono dovute a quello che ci riportiamo dietro da diversi anni, al fatto che la programmazione che c'è stata in tutti questi anni, a partire da quasi dieci anni, dal 2015, c'è stata una cattiva programmazione anche per quanto riguarda le assunzioni di personale, per quanto riguarda i tetti di spesa, per quanto riguarda le dotazioni organiche, quindi tutti questi errori li stiamo piangendo adesso perché non dobbiamo metterla, come spesso si vede in tantissime trasmissioni televisive, il fatto che magari gli infermieri chiedono esclusivamente, si parla esclusivamente di soldi, di remunerazione oraria, però ricordiamoci che una buona retribuzione, non diciamo un'ottima, una discreta retribuzione fa sì che lo spirito del lavoratore sia un po' più elevato a una retribuzione che può essere, diciamo, che è considerata, non può essere, lo dicono i fatti, una retribuzione come la nostra, che è una delle più basse al livello europeo. Per quanto riguarda, diciamo, la nostra provincia, Caltanissetta, è vero che ci sono state tantissime assunzioni nel periodo Covid, si sono fatte tante stabilizzazioni, però adesso, visto che in cantiere ci sono tantissime novità importanti, qua tutte le adozioni del PNRR per quanto riguarda le strutture territoriali, l'assistenza territoriale, come diceva, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, come diceva il segretario regionale, ci ritroviamo nuovamente con la carenza di organico, perché se bisogna andare a mettere, diciamo, personale nelle centrale operative territoriale, negli ospedali di comunità, tutte queste strutture necessitano di personale permeristico. Il personale permeristico che purtroppo, in questa fase, dove le aziende sono costrette, tra virgolette, strutture, a effettuare, diciamo, le aperture di queste nuove strutture, il personale viene distratto da quello che c'è, dagli ospedali, dalle strutture in cui si può prendere, tra virgolette, si può provare il personale, quindi a discapito magari degli ospedali, di unità operativa. Quindi la cosa importante da fare, che noi riflettiamo ormai da quasi dieci anni, è mettere mano seriamente alle dotazioni organiche a livello regionale, con, diciamo, un programma che attenzioni, appunto, questa forte carenza di personale permeristico. Allora, io vorrei adesso sentire Salvatore Vaccaro, vice segretario nazionale Nursin, con lui abbiamo fatto tante battaglie insieme, continuiamo sempre a parlare di PNRR, l'abbiamo iniziato a farlo quando uscì, ovviamente uscirono le prime novità che riguardavano questo importante strumento che sulla carta è eccezionale, ma poi di fatto tutti temiamo che porterà, avrà in qualche maniera dei buchi neri, tra questi sicuramente la presenza anche del personale infermieristico che è previsto nelle case di comunità, negli ospedali di prossimità, nelle cose territoriali, insomma, gli infermieri dovrebbero coprire tutto, però non si capisce bene come. Allora, io quello che vorrei chiedere a Salvatore Vaccaro è, si parla sempre di crisi, insomma, di mancanze di medici, di mancanze di infermieri, però poi non si fanno i bandi per i concorsi, per le assunzioni. Allora, come si esce fuori da questa matassa che in qualche maniera alla fine purtroppo crea problematiche sicuramente a voi, ma anche ai tanti malati? Come si esce? Bella domanda, perché per uscire da un impasse che ormai ci vede in emergenza infermieristica da anni, bisognerebbe anche rivedere, come diceva anche Giuseppe Provinsano, le dotazioni organiche. Io ero, quando ci siamo sentiti qualche tempo fa, ero molto preoccupato per quanto riguarda la messa a terra del PNRR. Adesso sono veramente terrorizzato da quello che potrebbe succedere. Lo siamo tutti. Sì, perché non vedo veramente la possibilità che il PNRR si realizzi secondo quello che è stato previsto dalla comunità europea, piuttosto che dalle varie risorse stanziate ai vari livelli. Questo perché? Perché ad oggi il personale infermieristico non c'è, la professione infermieristica non è resa attrattiva. Noi ci troviamo su Catania, ma tutta la Sicilia, anche con un infermiere per 20 pazienti. L'altro giorno mi è arrivato un turno dal Cannizzaro, per esempio, che prevedeva un infermiere per 20 pazienti in un reparto di ortopedia, piuttosto che un reparto di chirurgia vascolare, qualche giorno fa aveva lo stesso problema. Noi abbiamo uno studio internazionale che abbiamo finanziato, che si chiama RN4CAST, che prevede che, superando nelle unità di chirurgia, superando un infermiere con incarico sei malati, quindi mettendo il settimo malato, aumenta la mortalità del 7%. Figuriamoci un infermiere che si occupa di 20 malati, se non c'è il rischio che a quei 20 malati possa succedere qualcosa. Lo tastiamo con mano tutti i giorni e di questo ce ne preoccupiamo. Per quanto riguarda il discorso della messa a terra del PNRR, come tutti dicono, messa a terra, ma io dico che veramente già siamo a terra e non riesco a capire come facciamo o come faremo a garantire che il personale infermieristico, senza un'attrattività della professione, cioè senza un aumento della qualità delle condizioni di lavoro, della quantità di turni, della quantità di ore che facciamo in rapporto alla qualità e quantità del nostro lavoro, senza un miglioramento di questo non capisco come riusciremo a realizzare quanto previsto dal PNRR, dal Next Generation U, da tutti quelli che sono i programmi. C'è il Piano Nazionale Equità che prevede il contrasto alla povertà sanitaria, il finanziamento per la transizione di genere, l'aumento degli screening fatti a livello periferico per chi non può permettersi una sanità, quindi con le motorhome si può andare nei posti dove non c'è la sanità di prossimità a fare prevenzione. Tutto questo va fatto con le persone, non sono le nuove tecnologie che salveranno il sistema sanitario nazionale, sono le persone che possono salvare il sistema sanitario nazionale e se non remuneriamo, se non valorizziamo, se non aumentiamo il numero di queste persone è certo che noi queste possibilità non ce ne avremo, anche avendole le economie non avremo la possibilità di realizzare quanto abbiamo avuto. Allora, questo devo dire che è un problema purtroppo anche a livello nazionale, non è un problema solamente della regione siciliana, va detto che ci sono delle problematiche davvero della sanità in tutta Italia, siamo davvero in chiusura, siete tanti, abbiamo solamente un minuto per chiudere, quale saranno, volevo chiederlo ovviamente a Salvatore Calamia che è appena uscito dalle ultime riunioni in assessorato, quali saranno gli step successivi, velocemente in un minuto? Allora, sintetizzo, gli step successivi saranno, ci saranno nuovamente degli incontri per capire eventualmente intanto per quanto riguarda la situazione dell'indennità di vacanza contrattale, cioè la parte del residuo del nuovo contratto che le regioni dovranno pagare, che è in funzione anche dei bilanci aziendali che in questo momento non hanno grande liquidità, però pensiamo che a gennaio possono essere liquidate queste somme e ci speriamo e abbiamo già lottato per questo e ci hanno ascoltato. Altre ipotesi che sono in cantiere sono che eventualmente dobbiamo valorizzare meglio e individuare quali sono le criticità delle varie aziende, nelle varie province e intervenire immediatamente con risorse che ci sono, si possono prendere e eventualmente subito investire per evitare che la gente scappi, perché ricordo a tutti che c'è un indice quanto riguarda di andare via da parte del personale femministico e nelle università c'è un abbassamento della soglia dell'iscrizione, quindi dobbiamo invertire la rotta e dobbiamo dare dei segnali in questo senso. Questa è la strada giusta da percorrere, perché se no il PNRR saranno solamente delle cattedrali nel deserto. Cosa vogliamo fare? Come lo vogliamo fare? E che strumenti dobbiamo attuare? Queste sono le proposte del Nursen che se ci ascoltano è possibile che la strada corretta da perseguire e la possiamo realizzare per il miglioramento della qualità dell'assistenza dell'esercizio. Bene, io vi ringrazio, siamo arrivati davvero in conclusione, anzi abbiamo nettamente sforato, ringrazio Salvatore Vaccaro, il segretario nazionale Nursen, ringrazio il segretario regionale Salvatore Calamia, Aurelio Guerriero del Nursen Palermo, Giuseppe Provinziano Nursi Cantarinsetta, grazie davvero di questo prezioso collegamento, grazie soprattutto per tutto quello che fate quotidianamente nei reparti a supporto di tutti noi e soprattutto dai nostri cari che stanno poco bene, buon lavoro e grazie di aver seguito come sempre i nostri programmi. Grazie, buona sera.